Almeno nove morti, tra i quali tre bambini a causa dell'esplosione di un'autobomba questa mattina a Peshawar, nel nord-ovest del Pakistan. Nelle mire degli attentatori, probabilmente una stazione di polizia situata nei pressi del mercato dove è avvenuto lo scoppio. Sono 19 le persone rimaste ferite. Il distretto nel quale è avvenuto l'attentato si trova a ridosso delle regioni tribali poste al di là della frontiera afghana, una zona al centro di una nuova sanguinosa serie di attacchi. Quello di oggi è il quinto in sei giorni e segue quello di lunedì nel quale un kamikaze adolescente si è fatto esplodere vicino a una camionetta della polizia, uccidendo sei persone, tra cui il vice commissario locale. Sempre questa mattina cinque agenti sono stati uccisi in un agguato nella provincia meridionale del Baluchistan.